Buonasera a tutti e benvenuti. E dopo, simpaticamente, chiamiamolo il vecchio Donald e le donne, parleremo questa sera del vecchio Bill Clinton e le donne. Dico questo perché se le battute, il filmato, gli apprezzamenti non bruttissimi, e mi fermo, fatti da questo neopresidente al tempo della campagna elettorale hanno scatenato 500 mila donne, non sei il mio presidente, bullo, razzista, misogeno, sessista e tutto, nei confronti di Donald Trump, che ancora non ha iniziato fondamentalmente a fare, ma nel 1998, e precisamente il 17 gennaio del 1998, quando il presidente Bill Clinton, democratico, veniva messo in stato di accusa per aver compiuto atti sessuali, non battutacce da baro o da rodeo, atti sessuali con una stagista, Monica Levinsky, di anni 23, all'interno dello studio, nella sala ovale della Casa Bianca, non ricordo di aver visto le manifestazioni delle donne, sessista, misogeno, arrogante, cosa hai fatto, non sei il nostro presidente, eccetera, eccetera. Atti sessuali, 23 anni, vestito blu, macchiato, macchie riconducibili a, giuramento davanti a tutti, non ho commesso atti sessuali con questa donna per poi dire successivamente quando sarebbe stato accusato di spergiuro dal procuratore Stark, perché qualche atto forse vi era stato, ma però quell'atto lì, sì, in effetti, ma non è la stessa cosa nel dire atti sessuali, perché io pensavo che quella cosa là fosse diversa dall'atto sessuale tradizionale, quindi quando ho giurato non sono stato spergiuro, ma ho detto la verità, ma non sapevo. Questi fatti pesantucci che hanno portato poi un po' alle dimissioni, o comunque ad una lenta dipartita sino alla vita privata di Bill Clinton, tutti zitti, nessuna donna, nessun corteo, nessuna riprovazione. Ma al di là di questo parliamo dell'oggi, perché i commenti su quello che è successo il giorno dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca si sono un po' sprecati, sono anche simpatici, sono anche così delle battutacce del tipo il vecchio Bill non perde un colpo, il vecchio Bill non si smentisce mai, ma dovrebbero uscire insieme Donald e Bill la sera, ma il lupo perde il pelo e non il vizio, ma povera moglie che lo ha tollerato, ma però lo ha tollerato Hillary Clinton soltanto per la carriera politica e quanto altro. E ancora, insomma, vecchio maiale, brutte espressioni, insomma dette al vecchio Bill, per che cosa? Ma semplicemente perché se Donald Trump ha fatto con queste sue bruttissime esternazioni sulle donne, 500 mila donne in piazza, 2 milioni all'interno del paese, ma il vecchio Bill ha fatto 42 milioni di visualizzazioni di un video che lo ritrae lo stesso giorno della incoronazione di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti in un atteggiamento distratto, simpatico, ma in realtà ne parlava anche questa mattina la televisione spagnola dove il Bill Clinton insieme alla moglie una fila dietro nel palco riservato diciamo ai democratici, in realtà guardava di tutto meno che i democratici e meno che il suo palco, ma era girato a guardare tutto da una parte, tant'è che quando la moglie si gira, quindi Hillary Clinton per guardarlo, ma lui assolutamente men che meno continua a guardare da quella parte, si gira poi guarda la moglie e poi guarda ancora da quella parte. Questo filmato, ribadisco, ha fatto il giro del mondo, perché? Perché Bill Clinton si dice fosse in quel momento incantato, dopo essere stato fulminato con gli occhi da Hillary, a guardare chi? A guardare la bandiera? A guardare la carta costituzionale degli Stati Uniti, i giudici della Corte Suprema, le manifestazioni, i cannoni che sparavano, i Marines o comunque tutta quella che era la coreografia? Pare proprio di no, pare che lo sguardo che ha fatto il giro del mondo, 42 milioni, fosse uno sguardo diretto a guardare, si dice Melania, Trump, si dice Ivanka, figlia di Donald Trump, sempre Trump, bellissime donne, bellissimi vestiti, bellissime situazioni, incantato il vecchio Bill. E allora non voglio mettere sullo stesso piatto e sullo stesso peso l'uno e l'altro, però ecco, manifestiamo di qua, manifestiamo anche di là, o comunque quando si dice il lupo perde il pelo ma non il vizio, il vecchio Bill veramente se voleva fare il botto anche questa volta, 42 milioni in 20 secondi di filmato e in poche ore di trasmissione di utenti che hanno visualizzato il tutto, devo dire che batte splendidamente il vecchio Donald. Grazie.